È sempre una grande emozione ovviamente avere nave Vespucci in un porto come quello di Singapore, una nave bellissima, un vero alfiere dell'Italia, dei suoi valori, della sua bellezza, della sua capacità di costruire e innovare, mantenendo la tradizione culturale italiana. Una tappa importante perché Singapore è uno snodo fondamentale per i traffici commerciali ed è un partner cruciale per l'Italia in una regione come quella del sud-est asiatico che è estremamente dinamica, cresce a più del 5% all'anno e sulla quale naturalmente l'Italia, il suo settore privato ma anche le sue autorità stanno investendo molto proprio per affrontare anche le sfide globali che ci attendono. Singapore le affronta con grande pragmatismo e con valori che ci accomunano e interessi che ci accomunano come quelli della libertà della navigazione, un ordine internazionale basato su regole ma anche ovviamente con l'intenzione di sfruttare le innovazioni tecnologiche e di cogliere le opportunità offerte dalle due transizioni digitale e energetica. Avere la Vespucci e presentare le numerose attività del villaggio Italia anche su questi temi sarà un'occasione veramente importante per approfondire il dialogo con questo paese.